Oggi vi propongo un'idea che può essere interessante anche per un brunch una domenica e andrò a realizzare degli hamburger con asparagi e uova. La prima cosa che vado a preparare è il pane che mi può mancare in un brunch tostato quindi in una padella, vado a sporcare con dell'olio, aggiungo il pane e questo lo faccio andare. Nel frattempo pulisco gli asparagi. Invece di andare a farli al vapore e di cuocerli oppure lessati, vado in una padella, aggiungo semplicemente un filo d'olio e dell'acqua anche perché andrò a cuocerli veramente per qualche minuto non troppo in modo che rimangano belli croccanti. Inserisco gli asparagi in padella, poi nella stessa padella andrò anche a cuocere le uova. Una volta inizio a prendere il bollore vado a regolare di sale e pepe. Facciamo cuocere per 5 minuti circa. Il pane è pronto, quindi tiriamo via dalla padella, gli asparagi anche. Ora nella padella in cui abbiamo cucinato il pane inserisco gli hamburger. Nel frattempo nella padella invece in cui abbiamo cucinato gli asparagi andrò a cuocere l'uovo. Vado a mettere il sale soltanto sull'albume e non sul tuorlo. controlliamo gli hamburger. Quindi andiamo a mettere gli asparagi. Aggiungiamo gli hamburger. Terminiamo con l'uovo. Ecco qui, un'idea veloce da fare magari la domenica mattina che abbiamo più tempo. Provateci, alla prossima e buon appetito!